C'è la passività, questa è la chiave del Vangelo oggi, così penso io. E' questa che porta a noi a una situazione che può essere considerata come peccato, perché quelle parole cadono in ultima parte del Vangelo. Cosa significa questo? Come vediamo questa passività? La persona a 38 anni aspetta e si nutre di una illusione, illusione che questo che può aiutare a lei dipende dalla possibilità di arrivare a una onda e ancora mettersi.